Un viaggio nell'animo di un giovane prete che decide di lasciare il sacerdozio e quindi deve confrontarsi con tutto quello che la vita laica comporta. Amori, amicizie, lavoro, ci sono le gioie ma pure le difficoltà e anche i drammi. Sono alcuni dei temi principali del romanzo Amore e Doppione, quinto libro dello scrittore nisseno Rino Carlino, che è stato presentato nella sala degli oratori di Palazzo Moncada, durante il quale Carlino ha descritto alcuni passaggi del romanzo, concentrandosi anche sull'amore del protagonista verso due donne contemporaneamente. L'incontro è stato allietato dalla performance di Giovanna Saporito, che accompagnandosi con la chitarra acustica ha eseguito alcune canzoni, tra cui una toccante versione di Anche per te di Lucio Battisti. Nel corso dell'evento il poeta Angelo Foderà ha declamato alcuni dei suoi versi e c'è stato spazio anche per il ricordo del docente nisseno Giuseppe Lomenzo, amico dell'autore di altri ospiti, deceduto il mese scorso in un incidente stradale. Diciamo che è un romanzo abbastanza articolato perché va da momenti di vero sentimento, di amore, a momenti come la vita ci insegna del resto, a momenti dolorosi che sono vissuti sempre dallo stesso protagonista e intorno a lui circolano e orbitano tante figure.